Buongiorno, buonasera, Marco Pt. Volevo rispondere all'ennesima domanda in merito alla preparazione fisica che conferisce i pesi, che conferiscono i pesi, scusate, e uno scontro fisico, l'ultima richiesta di un certo Marco Mediolanum, che saluto, mi pare che sia anche qua di Brescia lui. Allora, preparazione fisica, preparazione muscolare e conflitto, conflitto fisico. Combattimento. Allora, questa è l'ennesima volta che vengo interpellato su questi temi, spero di dare una risposta esaustiva e definitiva. Il concetto chiave è che bisogna capire di che contesto stiamo parlando, lo scontro fisico e scontro fisico. Supponiamo che voi siate ingaggiati in un incontro di lotta greco-romana. Ecco, in un match di lotta greco-romana lo scontro è molto fisico, perché le tecniche di lotta greco-romana sono proiezioni, atterramenti, trapping, quindi tecniche per bloccare l'avversario, sollevarlo e schiantarlo per terra, proiettarlo, quindi sia in ambito offensivo che in ambito difensivo è necessaria una enorme preparazione fisica sui muscoli del collo, delle spalle, della schiena, delle cosce, delle braccia, anche dei pettorali, quindi si usa un po' tutto il corpo nella lotta greco-romana e il nostro oggetto da sollevare è il nostro avversario. Gli attacchi sono mirati al baricentro dell'avversario, lo scopo è sbilanciarlo e chiaramente l'avversario non sarà collaborativo, quindi è necessario oltre a tutto un addestramento particolare anche una certa dose di forza fisica. Osservate anche i campioni di lotta greco-romana, magari nelle categorie elevate, vedrete dei fisici assolutamente prestanti, possenti, quasi grezzi, brutali. Ricordo Maenza, il medagliato olimpico italiano, ma sono passati molti anni. Altro scenario, scontro fisico, supponiamo che la vostra massima preoccupazione sia difendervi da quel mattacchione di vostro zio che ogni tanto alza il gomito e fa un po' il cretino, non è che potete prendere un povero Cristo, fargli una proiezione di lotta greco-romana e schiantarlo per terra, perché lo ammazzate magari, capite? Dipende da che contesto, che contesto. Se dovete contenere un avversario di pericolosità medio-bassa, ci sono alcune tecniche. Se dovete invece combattere per un titolo olimpico in lotta greco-romana, lì il fisico conta tantissimo, conta tantissimo. Cerchiamo di analizzare i vari scenari e collegarli alla prestanza fisica. Io ho lavorato anche come security, in feste private, non l'ho mai fatto in discoteca, però in ville, in feste private ho fatto security. Vi posso garantire che quando si fa il lavoro di security non è necessario saper combattere, proprio in senso letterale. Il buttafuori cosiddetto dovrebbe dare un senso di sicurezza e dovrebbe più che altro cercare di contenere eventuali intempranze da parte dell'utenza. Quindi gli invitati a una festa, se cominciano a creare problemi, vanno contenuti, non vanno spaventati, non vanno terrorizzati, non vanno malmenati e spesso il lavoro di security comporta anche il lavoro di squadra. Ci sono appunto gli auricolari, ci si può connettere in team. Adesso io sono un po' fuori da questo tipo di ambiente, da molto tempo che non faccio questo tipo di servizio. Domando scusa se le tecnologie si sono un po' evolute, è un po' che non pratico questo lavoro. Comunque, nel lavoro di sicurezza l'aspetto fisico ha una doppia importanza. Il primo perché vi dà la possibilità di contenere fisicamente un ragazzo, magari ubriaco, nella seconda infonde un senso anche di sicurezza, perché se vi do un buttafuori corpulente, un muscoloso, se sono una ragazza mi sento magari più tranquillizzata, se sono una testa calda, vedo sto qua che è un armadio, ci penso bene prima di fare gesti in consulti. Quindi dà una tranquillità psicologica e anche una certa sicurezza fisica. Quando invece si va in contesti di combattimento più rarefatti, diciamo un po' più casuali, come la difesa da strada, la famosa difesa da strada, il combattimento da strada, sembra di essere street fighter di videogioco. Lì mi dipende da tantissimi fattori. Ci sono zone del mondo in cui si gira armati e in cui le persone importanti per evitare i rapimenti hanno la scorta. Quindi qua la difesa personale non è neanche più personale, è una difesa quasi di squadra, cioè c'è uno staff di persone deputate a proteggervi. Si parla di zone del mondo in cui c'è un rischio reale di essere rapiti a scopo di riscatto. Lì non c'è nulla che possa aiutarvi se non un team di persone deputate proteggervi, non c'è arte marziale, ci sono armi occasionali, non c'è craft magari che possa tenere. Ci sono contesti e contesti, in un contesto di conflitto bellico a fuoco o siete armati e magari avete anche del supporto, altrimenti di vari reparti intendo, altrimenti non fate molto. Capite che c'è un'escalation enorme di scenari possibili. Riducendo tutto a un contesto civile, di una nazione sperabilmente civile come l'Italia, in contesti urbani, di quartieri medio-alto locati, la potenza fisica o muscolare può anche servirvi, ma raramente si arriva a un combattimento acceso, un combattimento aspro. Ecco, se invece abitate, vivete in quartieri difficili in cui ci si scontra fisicamente diverse volte. Più che la potenza muscolare vi serve la furbizia, vi serve conoscere come lesionare un corpo umano in modo molto rapido e qua si va nel campo proprio del combattimento senza regole. Combattimento senza regole. Qua apro una piccola parentesi che è interessante. Io mi ricordo che qualche anno fa, mi pare fosse il 2015, ho fatto dei corsi di Krav Maga per aggiornarmi perché all'epoca ogni tanto insegnavo anche un pochino di arti marziali, un po' di muay thai e quindi mi tenevo aggiornato, anche tenevo un occhio aperto sulle altre discipline. Mi ricordo che quando facevo Krav Maga, qua a Brescia, con il gruppo Krav Maga Training, si facevano anche delle sessioni di combattimento libero. Chiaramente con le protezioni, perché se uno paga per fare dei corsi di arti marziali si fa anche del male, non ha tanto senso. E quindi delle protezioni, quindi il paradenti, la conchiglia, i guanti ovviamente. Mi ricordo che io, essendo ancora abbastanza automatizzato sul combattimento sportivo, tenevo a stare in guardia, ma lasciando scoperta magari la zona centrale del corpo, perché tanto da regolamento non mi sono mai aspettato calci sferrati ai genitali, calci diretti ai genitali. Mi sono trovato a combattere con un istruttore giovane di Krav Maga, un ragazzo anche fisicamente più leggero di me, però ricordo che dopo pochi secondi del combattimento, dopo qualche scambio di braccia, mi è arrivato un calcio secco, scusate, nei coglioni, scusate. Avevo comunque la conchiglia, non mi sono fatto male. Però io ho pensato che se fossi stato per strada con i jeans senza conchiglia, il combattimento era già finito. Allora cosa faccio? Mi rimetto in guardia, si comincia un altro scambio, stesso scenario, calcio diretto nei testicoli e da lì ho cominciato a cambiare un po' assetto di combattimento, cambiare la guardia, modificare anche gli schemi di difesa verso i genitali. Quindi se magari prima ero più attento ai calci, circolare le gambe, cercavo di bloccare di tibia, alzando il laterale la tibia, adesso cercavo di coprirmi più frontalmente col ginocchio per evitare di essere colpito nell'inguine, insomma. Quindi ogni contesto ha il suo stile. Vi posso garantire che in quel contesto lì, nonostante fossi io più pesante del mio avversario, la potenza fisica non ha avuto nessuna differenza, non ha fatto nessuna differenza. Lì è una questione di addestramento, di velocità, di conoscere i bersagli importanti e di colpirli prima dell'avversario. Quindi in questo contesto, nel combattimento stradale, diciamo così occasionale, la potenza fisica non fa tutta questa gran differenza. Se invece dovete più che altro contenere l'avversario, che non è un avversario ma è uno scalmanato magari, i muscoli sono comodissimi. Lo cinturate, lo tenete fermo. Quando si calma, lo lasciate andare. A questo punto posso anche dirvi che conoscere tecniche di grappling, di contenimento, di lotta, può essere anche molto utile perché si risparmia fatica, si risparmia energia, si mette più velocemente l'avversario in condizione di non nuocere, quindi è una situazione veramente dell'ottimale. Poi, altri contesti, potenza fisica, eccetera. Nel caso di bullismo, nelle scuole dell'obbligo, scuole medie, scuole elementari, ecco questi posti qua, vabbè che adesso ormai è bullismo con le mascherine. È anche uno scenario penso dimenticato perché non ci si può neanche avvicinare di oltre un metro, quindi lo bullizzi con cose, con gli anatemi, comunque. Nel caso di scontri tra bambini, io se fossi genitore, io non ho figli. Se avessi figli, penso che punterei più che altro a un addestramento di tipo lottatorio, quindi non percussioni, il punto non è lesionare un bambino, il punto è permettere a un ragazzino di difendersi senza nuocere al suo, tra virgolette, bullo al suo avversario, quindi niente tecnica percussione, niente denti rotti, niente sangue, niente nasi rotti. Io ritengo ancora oggi che uno dei migliori sport propedeutici della pedagogia sia proprio il Brazilian Jiu Jitsu. I bambini farebbero secondo me molto bene imparare il Brazilian Jiu Jitsu fin da piccoli. È una disciplina che richiede pochissimo costo di attrezzature, quindi un tatami molto grande magari, il kimono con la cintura e poco altro, salvo che uno poi non voglia far pesi, ma i bambini intanto vanno benissimo a combattere tra loro con il grappling, si parte inginocchiati spesso, si parte anche in piedi negli incontri veri, ma in allenamento spesso si parte inginocchiati, quindi non c'è il rischio di cadute rovinose e un ragazzino impara a prendere confidenza con la cinestesia, col corpo umano, impara come funzionano le leve, gli strangolamenti, le immobilizzazioni e poi avere classi di ragazzini addestrati almeno a lottare riduce e anche abbatte la statistica di bullismo, perché un bullo ci pensa due volte, perché se una preda è facile va al colpo sicuro, se la preda è difficile perché può rispondere con le tecniche di combattimento, magari ti passa anche la voglia ecco, quindi questo è quanto, in merito poi al punto focale del tema, quanto conta la fisicità in uno scontro fisico, vi ripeto, dipende, se siete in zone calde, state lottando contro i cartelli della droga, potrebbe essere anche Jay Cutler, cambia nulla, se invece operate per contesti non cruenti, situazione di contenimento o di buona impressione, un fisico potente e muscoloso sicuramente fa la sua parte, poi per quanto riguarda i contesti marziali o sportivi, ogni disciplina ha il suo specifico adattamento fisico, specifico adattamento fisico, se io devo combattere nella categoria dei, non so, 70 kg nel pugilato, non potrò avere un fisico da culturista più di tanto, quindi ogni sport ha la sua nicchia, poi anche lì l'adattamento come dicevo è sempre specifico, se fate Taekwondo, il sport coreano di calce e pugna, una specie di karate coreano, non vi conviene essere comunque troppo pesanti, questa è un po' la faccenda, se fate arti marziali, tradizionali, acrobatiche come il Wushu o Wushu, che dir si voglia, non vi conviene appesantirvi troppo, quindi anche lì il corpo si adatta in modo specifico, però qua si va più nel discorso delle arti marziali, nel discorso del combattimento, dovrei trattare questa materia nell'altro canale Marco AM, per quanto riguarda invece la preparazione fisica, sicuramente aiuta a essere grossi e forti, ma senza la tecnica giusta, senza sapere cosa fare e in quale situazione, i muscoli servono a poco. Marco Pt, grazie dell'attenzione, alla prossima.